Buongiorno e bentornati sullo scaffale virtuale, ormai un appuntamento fisso di ogni sabato oggi siamo ancora in Sicilia, infatti potete vedere alle mie spalle la libreria piena di un sacco di cose di un sacco di disordine perché è la mia libreria da bambina che ormai non utilizzo più e invece io oggi da qui, proprio da questo caos della cameretta da bambina, vi presento un grande profilo Instagram da 39,7k che esiste da tre anni, è curatissimo, chi lo tiene ha voluto mantenere l'anonimato per non spostare l'attenzione dai libri alla persona e io vi sto raccontando il profilo che si chiama Libri e Libri e allora andiamo subito a scoprire insieme di cosa si tratta il profilo Instagram in questione si chiama appunto Libri e Libri comunica nuovi libri, uscite di autori esordienti, foto, immagini sempre inerenti alla lettura curiosità, news, promozioni e giochi. Perché seguirlo? Perché gli aggiornamenti sono settimanali ogni libro pubblicizzato e commentato dall'intera trama per far capire a ogni singola persona se può piacere o meno ci sono intrattenimento, news, sondaggi, curiosità e promozioni diciamo proprio che è un profilo molto attivo, un profilo che esiste da tre anni e sicuramente un profilo che è pian piano, passo dopo passo è cresciuto Libri e Libri è un profilo che tratta di libri in maniera specifica e che ci dà sempre quel servizio in più quasi di tipo editoriale e che vuole spiegare appunto al lettore che sta cercando magari un libro da leggere se il libro è quello giusto o meno chi lo tiene? è una ragazza di 26 anni si chiama Valentina lo dice a me, io lo svelo piacevolmente ma non sappiamo di più di lei lei vive a Roma, è diplomata all'istituto tecnico commerciale e nella vita ci dice che fa semplicemente la segretaria curatrice unica responsabile della pagina Libri e Libri che come vi dicevo cura e tiene con passione da tre anni ho sempre avuto la passione per la lettura fin da bambina ma crescendo e vivendo la vita quotidiana tra lavoro, fidanzato, famiglie e amici intorno ai vent'anni ho iniziato a leggere tantissimo perché mi rilassava e mi estraneava da tutti i problemi esterni che potevo avere da tutto ciò, un pomeriggio, dopo una quantità di letture infinita è nata l'idea di creare una pagina Instagram che avrei aggiornato con tutte le nuove uscite dei libri che mi piacevano così da ricordarmene io più che altro tu dirai, note sul telefono ti facevano proprio schifo? non so, veramente perché ho deciso di usare Instagram dal nulla nel tempo libero e pian piano senza rendermene conto crescevo e ancora oggi sta crescendo tantissimo ringrazio infatti tutti coloro che mi seguono ogni giorno la mia pagina è consigliata, come già detto prima ad un pubblico uniforme di qualsiasi età e di qualsiasi sesso uomo, donna, ragazzi, ragazze perché semplicemente si rivolge a chi ama la lettura la pagina è curatissima è sicuramente consigliata a chi, come dicevo prima ama la lettura e legge tantissimi libri io conosco per esempio persone che leggono anche 5-6 libri al mese e che sono sempre alla ricerca di nuove emozioni sulle pagine per cui questo profilo è sicuramente un profilo per chi è esperto di libri e io ve lo consiglio la mia vita non è cambiata cerco di rimanere con un'identità anonima per far sì che le persone non si soffermino su altro c'è veramente poco altro da dire su questa pagina io vi lascio come sempre nel link informazioni tutto nel box informazioni scusate tutti i link e tutti i modi per andare a reperire la pagina di cui vi sto parlando do un grosso saluto a Valentina e la ringrazio tantissimo per aver aderito allo scaffale virtuale vi do appuntamento alla prossima settimana su scriviamo insieme e insieme ancora visiteremo profili instagram che ci parlano di libri e di lettura ciao da Anna e da scriviamo insieme ciao